ciao benvenuti e bentornati sul mio canale se non mi conoscete ancora io mi chiamo alicia giro se volete essere sempre informati su cosa faccio cosi indosso tutti i giorni vi aspetto su instagram mi trovate come alicia giro iniziamo con questo nuovo video allora vedete che sono in questo modo un po tropical un po spiaggia in questo video vi mostro tutti i miei acquisti fatti per l'estate su shin quindi eccomi perché sono così ho avvicinato già la rela così iniziamo con il primo pezzo e questo bikini a due pezzi fluo perché non c'è stato senza colore questo è a due pezzi la parte sopra è così e questa è la montagna davanti e dietro per la luce non sembra del colore che vi lascio la foto di questa parte così lo vedete questo bikini io l'adoro mi piace da impazzire è stupendo e questa è una small la taglia più piccola devo dire che mi sta molto bene e pensavo che magari la parte sopra era un tantino grande sono andata a leggermi tutte le recensioni e tutti avevano scritto che praticamente la parte sopra è leggermente piccola io non ho molto seno come potete vedere quindi a me va bene di questo modello sono rimasta molto soddisfatta su instagram ho caricato la foto mi avete scritto in tantissimi che vi è piaciuto il modello vi lascio la foto secondo modello è sempre a due pezzi ma la mutandina è a dita alta è molto bella disegna molto bene la silhouette poi a questa cintura queste davanti e questa è la parte dietro e la parte sopra è questa quello che mi piace di sheen è che la parte sopra sono sempre imbottiti o comunque scelgo io sempre imbottiti ma è molto bello e la tale è sempre una small e anche questo modello quando ve l'ho caricato su instagram mi è piaciuto tantissimo e mi avete scritto in tantissime sia sotto la fotografia che sia andare che volevate sapere di chi era di chi era il brand mi avete scritto che era finito purtroppo sushi nei costumi vanno a ruba poi in questo periodo la gente sta iniziando a comprarli non vi preoccupate se un modello finisce sushi perché poi le riforniscono quindi mettete magari il cuoricino salvatelo sui vostri preferiti e loro riforniscono tutto e qual è la cosa più bella perché siete sicuri che quel modello che vi piace o quel pezzo che voi vi piace ritornarà quindi lo troverete prima o poi lo troverete sarà vostro questo modellino qua a me piaceva tantissimo quando l'ho visto sul sito anche se è imbottito questo modello su di me non sta bene per il mio fisico perché la parte qua è un po dritta io che ho poco senno non mi sta bene non è adatto per il mio fisico quindi con mio grande dispiacere questo purtroppo devo fare il resto è stupendo ci sono anche diversi colori va a ruba questo modelli vi lascio comunque la foto dal sito e se avete un decoltè più grande non come il mio che sono piatta vi starà sicuramente meglio purtroppo su di me non va bene questa è la parte sopra si allaccia qua e questa è la mutanda e questo è il modello vero o di questo così non sembra un grande ora ve lo mostro come eccolo è così a questo dettaglio nella parte sinistra e la parte destra rimane così comunque vi lascio sempre la foto questo modello c'è due o tre colori è stupendo io sinceramente era indecisa che colore prendere mi piaceva sia questo lila che sia uno verde che era stupendo ho deciso per questo anche questo è imbottito la parte qua è sempre una small come taglia ragazzi io non lo so ma sono impazzita tre modelli di cine ha fatto diversi ma mi piacciono tantissimo poi il materiale molto bello questo mi piace un po di meno rispetto agli altri io anche se il tessuto non è che mi piaccia molto ma questo me lo tengo assolutamente questo l'ho indossato e vi lascio comunque sempre la foto si vedete come vista e passiamo al copre costumi questo stupendo lo ha scelto igor un marito e in pizzo morbido stupendo sinceramente ne vale la pena per il prezzo che ha ne vale assolutamente la pena sono rimasta molto soddisfatta di e anche questo modello mi avete scritto in tantissimi che vi era piaciuto se trovate comunque sempre lì di tutto quanto sotto nell'info box questo è lungo e allo spacco sulla coscia questo modello lo potete utilizzare come copre costume o anche magari con una sottoveste o anche un po di sotto e con un paio di tacchi per un aperitivo o una cena in spiaggia ha la sua cinturina è molto lungo come modello vi lascio la foto sia della versione lunga della versione corta così prendete quello che vi piace quello che si adatta meglio a voi e niente bellezze io per oggi ho finito spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al canale e attivate la campanella così siete sempre aggiornati quando carico un nuovo video scrivetemi nei commenti qual è il modello che vi è piaciuto di più come sempre vi lascio tutti i diversi link sotto nell'info box e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao